Sponsored by Lineeleco, da sempre in moto verso il futuro, lineeleco.it Impresa Valassi, fermo e franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. Treva Home.it Mister, allora sicuramente una buona partita a livello difensivo al di là delle due occasioni che avete concesso. L'ultima ci sta, in ripartenza, eravate ormai l'arma bianca, quella oltre comunque su una palla laterale. Secondo te siete stati ordinati, entrambe le squadre sono state ordinate. Parlavamo anche con Pissardo, alla fine bisogna fare forse ragionamento sulle ultime tre partite. Sette punti per come arrivavate a questo terzetto difficile di fine girina d'andata, sono un ottimo bottino. Sì, no, hai detto bene. Io adesso sto parlando nome mio, parlo anche nome del mister che siamo sempre confrontati. Durante la settimana e anche durante la partita. A mio avviso, vabbè, io sono un positivo di natura, nel senso mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno. Arriviamo da un periodo difficile e se mi avessero detto sette punti in tre partite avrei messo la firma con sangue. Oggi è una partita difficile, come ho detto anche io in conferenza, perché sapevamo che loro potevano avere un atteggiamento difensivista. Non pensavamo così tanto, infatti l'unica cosa che possiamo rimproverare a questa prestazione di oggi è nel primo tempo quando abbiamo avuto un possesso palla e un giro palla un po' lento e stirile. Infatti a fine primo tempo, confrontandomi sempre con il mister, abbiamo notato questa cosa e ci è mancata poi la conclusione, la finalizzazione degli ultimi metri. Però abbiamo fatto una partita contro una squadra che si difendeva con le punte a livello del centrocampo, quindi quando trovi squadre così difensiviste che si mettono dietro, i casi sono due. O giro palla velocemente cercando di fare superiorità sull'esterno, oppure devi arrivare in zona tre quarti e calciare in porta. Noi oggi questo l'abbiamo fatto un po' meno, ma non mi sento a nome mio, a nome del mister a dire nulla ai ragazzi perché davvero hanno dato tutto e hanno fatto, a mio avviso, un'ottima prestazione. Contro una squadra che per di più ha fatto i suoi risultati, le sue fortune, sempre in trasferta. Una squadra che sta lì, contro un allenatore che vi ho detto che è molto aggressivo a livello verbale, quindi un allenatore che sa il fatto del suo sotto quel punto di vista lì. Loro hanno fatto la loro partita e poi ho detto ai ragazzi, guardate che queste partite la maggior parte delle volte si perdono perché attacchi, attacchi, attacchi e la prima occasione loro ripartono e fanno gol. Infatti stava succedendo quello per degli errori banali nostri che siamo riusciti poi a correggere in qualche modo. Un mese fa secondo me questa partita la perdevi sicuramente, prendevi gol in quelle situazioni, quindi c'è da guardare anche questo lato positivo a mio avviso. Poi quello che si dice fuori, non fuori, è detto ragazzi, voi dovete concentrarvi sul vostro percorso e pensare di andare avanti così perché stanno facendo bene, stanno recuperando la fiducia che gli era mancata. E non si devono far condizionare dall'esterno, devono andare avanti per la loro strada e basta, continuare a far così. Davide, tende a bughe. Sì, mister, cosa è mancato in fase offensiva per trovare gol e ancora prima per trovare tiro in porta? No, c'è mancata sì, c'è mancata... Quando una squadra così schierata, che di solito adesso si dice mettono il pulmo, ma è la verità perché difendevano veramente basse, le uniche soluzioni sono quelle, o giocando anche a specchio, quindi sei a specchio, è marcatura uomo, non puoi sbagliare, è il tuo riferimento, non puoi sbagliare, o calci dai 20, 25, 30 metri, come abbiamo provato a fare qualche volta, oppure giri palla più velocemente, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Nel secondo tempo, glielo ho detto, hanno cercato di girare più velocemente palla e soprattutto guardate che comunque loro saranno stanchi perché hanno fatto un primo tempo molto dispendioso, quindi qualche volta le squadre si allungheranno e allora lì sì, dovremmo fare dei corti lungo per attaccare la profondità, abbiamo provato a fare anche quello e qualche volta sono riusciti ad arrivare sul fondo col cross. Però c'è mancata, a mio avviso, e all'avviso anche del mister, un po' di cattività davanti e dobbiamo sicuramente lavorarci perché oggi fase difensiva di tutta la squadra è stata ottima, a parte i due svarioni che possono capitare, però davanti dobbiamo lavorare meglio. Ederico, cosa vuoi? Sì mister, tu hai vissuto praticamente gli ultimi tre campionati di Serie C sostanzialmente da quando il Lecco è tornato. L'anno scorso il girone d'andata è stato archiviato con 29 punti, l'anno prima con una decina di punti meno, quest'anno siamo nel mezzo sostanzialmente, quindi un commento veloce su questo girone d'andata travagliato. No, un girone d'andata che si ha avuto alti e bassi, troppi alti e troppi bassi, però ti ripeto, i ragazzi devono essere convinti di quello che fanno, non devono farsi condizionare da nulla. Arriviamo davvero da un periodo difficilissimo, critiche, non critiche, e adesso stanno cercando di trovare un po' di quella fiducia che mancava. La fiducia è una cosa che per riacquistarla ci vuole tempo, per perderla ci vuole un attimo. Quindi loro devono essere bravi a essere mentalizzati, loro sono pagati da Presidente per fare i professionisti, l'ho detto anche prima della partita, e devono fare i professionisti. Loro non devono pensare alla prossima partita, o adesso ci sono le feste di Natale, pensiamo alle feste di Natale, loro devono stare sul pezzo, pensare alla prossima partita che viene adesso, perché questa è passata, mettersela da spalle, e correggere gli errori che hanno fatto, sono stati pochi ma potevano incidere sulla prestazione. Altre domande? Vai Vardo. Allora, tu che conosci la squadra a fondo, dove può essere migliorata questa squadra? Ma, per prima cosa c'è una migliora di atteggiamento, e quello è il primo passo da fare ed è stato fatto. Adesso sono loro che devono credere in quello che stanno facendo. Davanti sicuramente dobbiamo capire un po' di più cosa fare in certe situazioni, ed essere a volte più smaliziati e più cattivi. Ma nel contesto, visto anche il recente passato che abbiamo avuto, non posso dire niente, si stanno dando tutto. Oggi dicevo, anche prima della partita, che anche i ragazzi che non stanno giocando, che stanno giocando meno, sono eccezionali perché stanno tenendo un livello dell'allenamento molto alto, quindi non mollano mai, quindi aiuta anche i titolari ad allenarsi bene, ad arrivare preparati alla partita. Quindi è un gruppo che è partito fortissimo, è un gruppo che ha preso due cazzotti in faccia e è rimasto sbaglionato per tanto tempo. Adesso sta rialzando la testa, ha iniziato a colpire duro e deve continuare a fare così. Sì, Andrea, però che è mancato, al di là del periodo non bello, con tutta una serie di sconfitte e che adesso con me sta veramente riacquistando fiducia da squadrono, si vede anche da certi movimenti e da come si aiutano in campo alcuni giocatori. Però mi sembra che manca ancora un po' la parte finale, cioè la finalizzazione del gioco. Perché per esempio cerchiamo, tu, qualcuno diceva che abbiamo tirato da fuori, noi dovremmo tirare molto di più da fuori quando queste squadre così schierate non ti fanno respirare, perché non ti fanno passare. No, dici giusto, è giusto quello che dici, cioè nel senso è uno dei due aspetti che abbiamo toccato a fine primo tempo, perché non hai molte soluzioni quando sono lì. O calci, o calci, o cerchi di messo all'esterno e fare superiorità per poi mettere la forza sul primo pallo abbiamo gente comunque come Gunz, come Yocolano, come Tordini che attaccano forte al primo palo. Non possiamo metterla alta e sperare che vadano a saltare sopra gente di un metro e novanta. Le soluzioni sono quelle. Abbiamo anche chi da fuori sa calciare bene, abbiamo visto anche durante un giornale d'andata che abbiamo fatto gol anche dalla distanza. Oggi è stato difficile fare quello, è stato difficile perché forse non ci hanno creduto fino in fondo al tiro da fuori e non è stato facile anche perché comunque giocando come ti diceva Specchio hai sempre un riferimento, non riesci mai a liberarti del tutto. Poi loro avevamo provato, sapevamo che stringevano molto, invece oggi hanno tenuto largo il terzino e non avevamo neanche più di tanto il cambio di gioco, perché avevamo provato anche quel cambio di gioco. Ci siamo ritrovati in una situazione dove o calciavamo o calciavamo. Abbiamo calciato poco e quello è l'unico, se mi avviso, l'unico rammarico che ci può essere oggi, che devono forse cercare di più il tiro da fuori. Sì, no, fondamentale soprattutto in queste categorie è la scelta finale che fai. Nel senso, quando arrivi lì devi essere convinto di quello che fai. Noi abbiamo giocatori che hanno calcio e devono calciare. Poi se in quel momento magari avrà chiuso la traiettoria, questo non lo so perché poi dalla panchina non vedo tantissimo perché comunque sono sempre in diagonale. però dobbiamo metterci in testa che potranno capitare altre partite, così, dove squadre ci aspettano, si schiacciano, perché comunque la nostra squadra è una squadra forte. Chi se ritrova le motivazioni e gli atteggiamenti giusti può far sempre male. E potrà capitare ancora in futuro di trovare situazioni nel genere. Quindi sappiamo che le soluzioni sono quelle, non è che ci può girare tanto intorno. E dovremmo essere più bravi rispetto ad oggi a concludere meglio. Allora, io ho notato, poi non so se tu sei d'accordo, però rispetto alla prima parte del campionato verticalizzavo molto meno, cioè giochiamo molto qui in orizzontale. Oggi sì. Mi sembra che si perde anche proprio un tempo di gioco. Oggi sì perché oggi era impossibile verticalizzare. Erano tutti lì e una volta che arrivi al centrocampo e la verticalizzi la palla arriva direttamente alla portina. Con Serenio no, con Serenio abbiamo verticalizzato tanto e abbiamo avuto la nostra fortuna appunto sulle verticalizzazioni. Ma in generale, anche in settimana con il misto, soprattutto il misto è un allenatore che gli piace verticalizzare. Oggi l'unico modo per cercare di smuoverle da lì era girar a palla, perché se verticalizzi nel centrocampo, loro sono forti di testa. 1,91m, 1,90m, 1,85m, non abbiamo tutta quella struttura lì. Quindi avremmo fatto sicuramente il doppio della fatica, anzi avremmo subito più ripartenze di quelle che abbiamo preso. Quindi no, nel senso, sono d'accordo su Teccon oggi, sicuramente. ma era l'unica strada da percorrere oggi. Per escedenza no, anzi, il misto gli piace ripartire, gli piace attaccare, anzi, è uno che gli piace difendere e poi ripartire. Quindi continueremo su quello e vedremo come migliorare per cercare di avere più soluzioni davanti. Altre domande per... Sì, una cosa. Verso la seconda metà della ripresa, visto anche i giudici che sicuramente oggi non era lo stesso di Serenio ci sta, insomma. pensavo cambiaste in mezzo passando a tre, magari inserendo Loro o Galli piuttosto che l'Acti è entrato dopo, però forse non è proprio da perno davanti alla difesa, anche forse per liberare Masini e Caglia. Noi abbiamo tante soluzioni in panchina, purtroppo stamattina quando siamo arrivati al campo sia Morosini che Galli mi hanno fatto presente che avevano dei postumi dall'ultimo allenamento, Galli il solito fastidio al ginocchio dovuto all'intervento che aveva fatto, Morosini invece calciando Iria ha sentito una mezza fitta che per fortuna non dovrebbe essere nulla. Quindi il solito cambio che facciamo spostando fuori Masini mettendo Galli non abbiamo potuto farlo. Abbiamo provato a sfruttare la rapidità di Tordini sull'esterno, il 1 contro 1, cercando di fare il 2 contro 1 insieme a Zambataro che partiva da lontano con la sua grande qualità e qualche volta siamo riusciti a fargli male di sulla sinistra. Purtroppo alcune defezioni ci sono e vanno affrontate. Abbiamo cercato di, insieme sempre con Mister, di mettere in campo una soluzione migliore e sono convinto che oggi era il massimo che potevamo ottenere da questa prestazione. Ovvio che rimane rammarico che potevamo fare qualcosa di più a livello di conclusione, un po' più cattivi e quello resta. Però ripeto, se mi avessero detto un mese fa, le prossime tre partite fate due vittorie in pareggio, avrei sorriso perlomeno. Quindi sono contento per i ragazzi, per il lavoro che stanno facendo e non possiamo dirgli nulla. Marco, questa partita mi è sembrato di averla già vissuta un anno fa con loro, bene o male. Voi avete giocato, 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 poi alla fine avete rischiato di non portare a casa niente e alla fine il pareggio è giusto. Muovete comunque la classifica e sette punti in tre partite forse avreste firmato prima di questo trittico. No, allora sicuramente loro sono una squadra particolare. C'è il senso che sono tutti gli altri, oggi ci hanno aspettato e quando ti aspettano, già noi facevamo fatica l'anno scorso, ma in generale in Serie C si fa fatica con tutte queste squadre. Ti aspettano, fai fatica e non riesci a trovare sbocchi, poi magari ti nervosisci, gli ultimi 15 minuti vai all'arrembaggio, ci provi e contro piede gol. E perdi 1-0 e dici, come mai? Però secondo me dai sei stati bravi che alla fine non si è riusciti a vincerla, non l'abbiamo persa, abbiamo mosso la classifica, come dici tu, se mi avessero detto dopo la sconfitta di Trento, vabbè sul tiro la lascio stare perché è una partita a parte secondo me, e ci avessero detto fate 7 punti in 3 partite con 2 partite fuori casa contro Piacenza e Seregno, io avrei messo la firma, giriamo 24 punti che mi sembra buona. Per il campionato che abbiamo fatto, quella fase in cui abbiamo fatto 2 punti in 8 partite, ci avrei messo la firma sinceramente. Sì Marco, hai salvato il risultato oggi, un paio di occasioni ci hai messo in guantoni tu, soddisfazione anche personale, proprio un momento non facilissimo. Io non ho mai parlato in questo mese e mezzo che sono stato un po' criticato perché non voglio parlare, anzi faccio parlare il campo, sono stato attaccato a volte giustamente, a volte ingiustamente, secondo il mio punto di vista, però oggi ho fatto una buona partita, sono contento a livello personale, meno a livello di squadra perché l'avrei voluta vincere, però diciamo non una rivincita, però sono contento perché mi avete molto criticato e a mio avviso è stato a volte giusto, a volte però molto meno giusto. Ciao Marco, adesso mercoledì arrivo la Provercelli e l'occasione comunque ideale per cominciare al giro di ritorno con una vittoria contro una diretta concorrente, perché la classifica parla in questo senso. Io non so quanto ha fatto a Provercelli oggi, però... Spingiare. Ok, allora abbiamo gli stessi punti. Sì, sarà una partita difficile, ci sono tutte e due squadre che abbiamo attraversato un brutto momento e adesso siamo in ripresa, secondo me, e quindi sarà una bella partita, secondo me loro, come noi, hanno delle ottime individualità e hanno una posizione di classifica che potrebbero avercela migliore, ecco. Diciamo, siamo squadre, secondo me, tutte e due che abbiamo avuto un percorso simile in questo giro d'andata, quindi insomma sarà una bella partita. Mister Banchieri, al termine di Lecco Possesto, mister, un buon pareggio su un campo difficile e complicato che all'ultimo poteva trasformarsi in una vittoria. Sì, direi un ottimo pareggio perché abbiamo giocato contro una squadra forte, ben costruita, che gioca bene a calcio, tra l'altro faccio i complimenti al mister che era a casa purtroppo col Covid e faccio l'in bocca al lupo che rientri presto al campo, ma c'era Andrea Malgrati che ha avuto la fortuna di allenare, quindi abbiamo fatto un ottimo pareggio. Poi il calcio è strano perché se tutto fosse finito al 93esimo saremmo andati a casa tutti felici per il pareggio. Poi dopo al 93esimo, con la palla a gol che abbiamo avuto, chiaramente ti rimane quella sensazione di aver potuto vincere perché poi il loro portiere è stato bravissimo sia alla fine del primo tempo su Ghezzi dove ha fatto una parata importante, però io credo che queste cose qui facciano parte del gioco e quindi sono abilità, è stato abile Pisardo a parare due volte, il Lecco ha fatto un'ottima gara, noi anche perché nonostante le assenze questo gruppo che ho la fortuna di allenare è un gruppo straordinario perché oggi mancava tutta la difesa e della Giovanna ha fatto una partita bella, Mazzarani, Maldini, Marzupio, sono stati tutti bravi, chi è entrato è stato bravo, davanti hanno lavorato molto sia Riccardo che Daniele Grandi, hanno fatto un'ottima gara, poi è entrato, Buongiorno anche lui ha fatto bene, Capelli è entrato e ha spaccato la partita con due giocate dove potevamo fare gol entrambe le volte, quindi ripeto siamo contenti, siamo contenti del punto perché sappiamo che in questo campo qua è sempre difficile e quindi andiamo a casa così, poi domani mattina ci alleniamo e prepariamo un'altra partita importante che ci sarà martedì. Esatto perché martedì ci sarà la partita importantissima contro la Gianna Erminio, con che spirito si affronta un impegno così importante dopo questa partita? Con lo spirito di oggi, di queste 13 partite che io sono qui, di una squadra che non molla mai, che ha giocato a pari livello col Padova, che ha giocato a pari livello oggi, che ha giocato con tutti la partita e quindi si affronta così, perché poi avete visto che anche oggi credo che nessuno scommettesse sul nostro risultato eppure l'abbiamo fatto e alla fine potevamo anche vincere. Questo è il merito dei ragazzi, il merito di una squadra che non molla mai, che si allena sempre bene, che anche nelle difficoltà non si lamenta mai delle assenze, ma chi è chiamato in causa è sempre pronto e sono ragazzi eccezionali. Oggi Brenton ha giocato la partita con una distorsione presa, credo dopo un minuto e trenta, ha giocato 90 minuti con una distorsione alla caviglia pesante. Qua c'è ragazzi che soffrono, che si sacrificano per la Pro Sesto, ma credo che questo debba essere lo spirito della Pro Sesto, quindi si affronta così, ci prepariamo, sappiamo che sarà difficile, perché in questo campionato tutte le partite lo sono, però il punto di oggi ci dà rinnovata fiducia, ci dà consapevolezza che nonostante tutti gli addetti ai lavori non ci mettono neanche ultimi in classifica, non ci mettono proprio nel giornale, noi non stiamo neanche nelle classifiche e invece nonostante ciò questi ragazzi ogni settimana mi sorprendono e bisogna continuare così, bisogna continuare così con coraggio, con la qualità che abbiamo, perché abbiamo tanta qualità se penso a Scapuzzi, se penso a Caponia, se penso a Del Frate, abbiamo tanta qualità anche noi, quindi bisogna continuare così, ecco.